E rieccoci, ben ritrovati in diretta con Buongiorno Dottore, nuovo appuntamento dagli studi di Rete7 naturalmente, nuovo appuntamento con lo Torino Laringoiatra dell'ospedale Molinette di Torino. Il dottor Massimo Capriccio, cui credo stia suonando il telefono, eccolo qua, lo sta silenziando, grazie dottore, naturalmente. Buongiorno a tutti. Buongiorno, eccolo qua, allora io ricordo sempre, ve lo propone anche la regia in sovrimpressione 011 06 00 774 e il numero per le vostre telefonate in diretta, mentre 348 80 40 254 il numero, se volete mandarci sms e whatsapp, lo dico già adesso, so già che lo dovrò dire tante volte, ricordate sempre di togliere l'audio dal televisore quando telefonate. Quando parlate col dottor Capricci dovete avere tolto completamente l'audio dal televisore, abbassato a zero, silenziato, insomma, l'espressione che volete, il senso rimane quello. Le vertigini, dottor Capricci, allora, fa venire un po' di vertigini, visto così scuro in volto, in controluce, non la vediamo bene, dottore, probabilmente c'è una tapparella chiusa, ecco, c'è qualche tapparella chiusa. Allora, dottore, come? Un attimo solo. Sì, no, ma la vediamo, non si preoccupi. Ecco qua. Ecco, ok, meglio, meglio, sì, meglio. Allora, le vertigini è un argomento sicuramente interessante perché c'è anche tanta cultura popolare, per così dire, attorno a questo tema. Noi partiamo dall'ABC, cioè quando si parla di vertigini da un punto di vista medico o torino-laringoiatrico, di che cosa si tratta? Ma non la faccio ancora partire, dottore, perché come sa, sono sempre tante le persone che chiamano quando c'è il dottor Capricci. E infatti abbiamo una prima telefonata. Pronto? Siamo già qua. Pronto? Buongiorno, come si chiama e da dove chiama? Buongiorno, sono Rita da Torino. Sì, prego. Ho 80 anni. Buongiorno. In alzitutto fare i complimenti al dottor Capricci per la sua competenza e la sua empatia che dimostra ogni... Grazie signora. ...a ogni occasione. E poi volevo chiedergli se era possibile fare un'ipotesi su un dolore che mi è capitato all'improvviso, all'orecchio sinistro, che in un primo momento ho attribuito allo spiffero del finestrino dell'auto. Però adesso è diventata, sono alcuni giorni, è diventata una cosa più imponente. e consiste in una serie di fitte molto lancinanti proprio, molto forti, notte e giorno, all'altezza, non proprio dentro l'orecchio, ma dietro l'orecchio e soprattutto a livello del lobo. Si estende poi fino alla mandibola. E quindi volevo sapere se poteva essere... Io ho ipotizzato nella mia ignoranza una... Come si dice? Adesso mi sfugge in questo momento. Una... Vabbè. Un'otite. Un'otite, ecco. Però ho provato a mettere delle gocce di anauran che avevo in casa, ma senza risultati apprezzabili. E poi, oltretutto, ho provato anche a usare la tachipirina mille. Sì. E qui, anche qui, non ci sono stati risultati apprezzabili. Quindi volevo sapere se... Certo. Innanzitutto se ho azzeccato la diagnosi. E poi se... Che cosa devo fare? Se c'è qualche cosa che posso fare? Sì. Allora, prima di tutto complimenti perché ha una voce molto giovanile. Concordo. E poi è una paziente molto lucida. Io ho pazienti decisamente più giovani di lei che sono meno lucidi e meno attenti e meno pronti. Quindi complimenti. E io non credo che sia un otite. Perché l'otite comunque, oltre ad avere male, può dare febbre, può dare altri sintomi. Io penso più che sia un problema di otalgia riflessa, quindi di un dolore riflesso, ma da un problema forse della mandibola. Quindi ritengo che non sia tanto, ovviamente bisognerebbe vederla, ma non sia tanto un dolore dell'orecchio che poi arriva alla mandibola, ma che parta dalla mandibola e si irradia l'orecchio. Lei faccia un tentativo adesso, metta tutte e due le mani a questo livello dove c'è l'articolazione temporomandibolare e apra e chiuda la bocca facendo una leggera pressione con le dita. Ma avverte male, aumenta il male? Male in particolare no, soltanto sento uno scricchiolio molto forte. Lo scricchiolio è l'articolazione temporomandibolare che ha, come tutte le articolazioni, il fatto che a volte in base ai movimenti può dare dei rumori. E poi provi a fare un'altra cosa, mette il mignolo dentro l'orecchio, spingendo verso il basso e aprendo chiudendo la mandibola mi dice se aumenta o si esacerba il dolore nell'orecchio. No, in questo modo no, è sempre uguale, lo stesso dolore non si accentua. Costante? No, no, no. Uno di questi, perché la tachipirina a volte è un po' troppo blanda. E se la situazione migliora bene, altrimenti puoi farsi vedere o domani, se può, che venerdì, o dal medico curante oppure sentire il suo dentista. Io prima di tutto farei quello. Grazie. Ho capito, grazie mille. Grazie, grazie. Poi mi faccia sapere, richiami giovedì. Allora, grazie, buona giornata, mi associo ai complimenti del dottor Capricci. Intanto, nell'attesa che il dottore riesca un po' a sistemare questa inquadratura che cade giù regolarmente, non vuole stare ferma quest'oggi. Esatto. Ecco, visita praticamente... Sì, va meglio, va molto meglio, dottore. Grazie, una visita a Torino Leringoiatrica in diretta TV praticamente abbiamo avuto. Ma questa è TV verità e ogni tanto ci sta. È stato anche un bel momento. Se vogliamo, intanto, però abbiamo un'altra telefonata, ne abbiamo in attesa. Pronto? Pronto, chi c'è in linea? Vorrei parlare col dottore. Sì, buongiorno. Come si chiama, da dove chiama? Io chiamo adesso da provincia di Torino, mi chiamo Giuseppe Ciavucco. Giuseppe è dalla provincia di Torino. Se per favore può abbassare a zero l'audio del suo televisore. E poi prego con la domanda al dottore. Buongiorno. Sì. Buongiorno, dottore, buongiorno. Senta, io... Mi sente? La sentiamo benissimo, prego. Io da un po' che mi giro la testa, sembra come quando fosse un briaco. Sono andato a tanti dottori, ho fatto tante visite in tutte le parti, ma non si riesce a trovare una via giusta. La causa. Come bisogna fare? Ma mi è andato anche dallo Torino, sì. Sono andato anche dallo Torino, dal Neuro, qui a San Luigi. Sì. Ha fatto anche degli accertamenti, degli esami? Da scarsella? Non si sente niente, però. No, dico, ha fatto degli esami, degli accertamenti? Pronto? Sì, pronto? Sì, dice il dottore, le chiede se ha fatto esami o accertamenti. Ho fatto gli accertamenti, tutto quanto. Mi dici che accertamenti ho fatto? Anche la vista degli occhi, ho fatto tutto. La vista degli occhi dice che non c'entra niente. L'orecchio dice che è a posto. La testa dice che è a posto, però io quando cammino mi spando, vado a destra e a sinistra e se non faccio attenzione casco pure per terra. Sì. Senta, ha problemi di pressione, di circolazione? Ecco, la pressione io prendo la partiglia, ma me lo controllo tutte le mattine e lo tengo sempre giusta, capisce la pressione? E quanto ha di pressione? 138, 88, a volte 90, ma... Sì, sì. Ha problemi di circolazione, a parte la pressione? Ho fatto la carotide, lì, come si chiama? È a posto, è tutto... È a posto? L'ecodoppler, i vasi... Ok, perfetto. Allora, senta. Io per quello che vedo io, che ovviamente non vedo niente, non vedo né lei, né vedo gli esami, la vertigine di questo tipo è una vertigine che noi definiamo soggettiva, quindi è una vertigine quasi sempre non legata all'orecchio, ma legata ad altri fattori, che possono essere, come l'ho detto, circolatori, collegati all'artrosi cervicale, collegati a patologia dell'articolazione temporomandibolare, collegati alla vista, ma lei mi ha detto che la vista hanno escluso il problema, collegati alla pressione, alto o bassa, ma abbiamo escluso anche questo problema, e poi collegati a tanti fattori di metabolismo, cioè nel senso che ci sono tante patologie, tipo, a parte il colesterolo alto, ma l'acido urico alto, la glicemia alta, gli enzimi del fegato alti, la colecisti con gli eventuali calcoli e così via, la cistifeglia, che possono dare queste vertigini soggettive, questa instabilità. Anche problemi, come l'ho detto, sia alla colonna cervicale che alla colonna in generale, quindi alla colonna lombosacrale, alla colonna dorsale. E esami del sangue ne ha fatti? Non abbiamo più lo spettatore che probabilmente ha preferito ascoltarla al televisore, ci può stare anche questo, l'importante è quando si parli al telefono. Questo è il tema praticamente di quest'oggi, cioè si parlava delle vertigini. Le vertigini del signore sono vertigini soggettive, che hanno tutta una serie di cause non legate all'orecchio, oppure bisognerebbe appunto in questo caso, sentendo il paziente, sapere se ogni tanto vede anche girare gli oggetti, perché in alcuni casi queste vertigini sono vertigini di tipo misto, quindi hanno una componente oggettiva legata all'orecchio, per cui il paziente ogni tanto vede girare la stanza, gli oggetti attorno a lui, e una vertigine soggettiva, anche perché le cause di vertigini possono essere tante e spesso molte cause possono concatenarsi e determinare la sintomatologia. Bisognerebbe appunto sapere se ha fatto uno degli esami del sangue, se ha fatto una lastra della colonna cervicale, se si è fatto vedere dal dentista per l'articolazione temporomandibolare, poi dipende anche da magari delle malposizioni assunte in ambito lavorativo, poi dipende, c'entra tanto lo stress, c'entra tanto l'affaticamento, il dormire male. Purtroppo la vertigine è complessa, sia nel valutare le cause, sia nel fare una diagnosi più o meno precisa, e quindi ci deve essere un dialogo col paziente. Io direi che se non ha fatto degli esami del sangue, mi sta ancora sentendo fare degli esami generali del sangue, controllando quindi l'emocromo, controllando che non ci sia un'anemia, controllando gli enzimi del fegato, tutto il metabolismo del fegato, della colecisti, del pancreas, controllando la glicemia, e valutare poi questo insieme a tutti gli altri parametri. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto chi c'è in linea? Sì, pronto, no, sto ascoltando il dottore, io. E di nuovo lei? Sì, sì. Ah, ha richiamato allora. Va bene, direi che... Stavo ascoltando il dottore, è un disastro, dottore. Mi dispiace, mi scusi. Non ho capito? Non si sente niente, però, ecco sto... Allora, io direi, visto che non si possono fare più di due telefonate per diretta, il dottore ha provato a rispondere a tutti i dubbi che poteva avere il signore. Ma non ha capito cosa mi dispiace. Non l'abbiamo capito neanche noi, poi ha detto che non sentiva, ha problemi a sentire, magari può provare a risolvere, richiamare successivamente. Intanto noi abbiamo un messaggio da leggere, lo andiamo a leggere. Allora, con la rinite vasomotoria che causa la caduta di secrezioni nasali trasparenti quando fa freddo e costringe a soffiarsi il naso in continuazione, può andar bene uno spray tipo Yaloclean, acqua di sirmione, può consigliarmi altro? Ma questi prodotti vanno molto bene. Lo Yaloclean in più contiene acido yaluronico, che è una sostanza che ha una potente azione anti-infiammatoria. E' chiaro che poi per la rinite cronica, se c'è anche un'ipertrofia dei turbinati, a Cicli si può utilizzare anche uno spray a base di cortisone, e di questo ce ne sono tantissimi. Assolutamente da proibire, da vietare, da non usare mai, la rinazina o il Vixinex, che sono due spray nasali che hanno un eccesso di vasocostrittore, che quindi possono dare dei grossi problemi poi ai turbinati a lungo andare, non solo ai turbinati, ma anche alla regione olfattiva, creando anche poi dei problemi di percezione degli odori, addirittura con una diminuzione della percezione olfattiva, quindi un'iposmia, fino ad arrivare all'assoluta mancanza di odori, quindi all'anosmia. Quindi Vixinex e rinazina mai usarli, anche se adesso la TV pubblicizza la rinazina con l'aloe, la rinazina con pincopallo e con tante altre sostanze. Abbiamo un altro messaggio. Sono Maria, volevo augurarle, vabbè, auguri di buona Pasqua, anche a lei, cara Maria. Grazie, grazie alla famiglia e tutti i miei pazienti. Naturalmente e con l'occasione, naturalmente buona Pasqua, avremo modo di ribadirlo, comunque a tutti i nostri telespettatori, 011 06 00774, il numero per le vostre telefonate in diretta, 348 80 40 254 per i vostri sms e whatsapp. Allora dottore, il paziente, diciamo il paziente, lo spettatore di prima gli ha dato l'occasione per affrontare il discorso ci pare di capire che c'è vertigine e vertigine è un campo piuttosto ampio. Sì, è un campo piuttosto alto. Allora, sì, abbiamo una telefonata, poi proveremo, anche se un po' l'abbiamo già fatto, affrontare il discorso. Comunque, pronto, chi c'è in linea? Buongiorno. Buongiorno. No, sentiamo bassissimo, come si chiama, da dove chiama? Caduta, fin troppo basso. È addirittura caduta la linea. Sì, era talmente basso che è caduta. Allora, niente, insomma, vertigini, varie definizioni, era un tipo particolare di vertigine, quello che manifestava il Signore, come si verificano, quando diventano gravi? Sì, allora, le vertigini sono vertigini di vario tipo, abbiamo visto, ce ne sono di varie situazioni. Ecco qua, vere, false, soggettive, oggettive. I vertigini oggettive e vertigini soggettive. Le vertigini oggettive sono quelle vertigini che sono determinate da una patologia di solito prevalentemente legata all'orecchio o, peggio ancora, fortunatamente sono rare, legate a patologie neurologiche, alcune collegate al nervo acustico, altre invece purtroppo a malattie cerebrali anche gravi come i tumori. Le vertigini oggettive sono vertigini che possono essere debilitanti, cioè il soggetto non barcolla come il paziente di prima, ma addirittura deve stare straiato a letto. In alcune forme di vertigini deve stare al buio e qualsiasi tipo di rumore, di stimolo rumoroso o anche luminoso, quindi anche solo l'accendere la luce, può scatenare un nuovo episodio di vertigine oggettiva con fenomeni anche neurovegetativi gravi, quali non solo la nausea, ma anche il vomito, il pallore, il vomito o anche aggetto, quindi con tutta una sintomatologia correlata che fa star male il paziente e gli impedisce anche una vita di relazione. Alcune vertigini oggettive, ricordiamo, sono addirittura invalidanti ed è prevista l'invalidità perché c'è l'impossibilità anche a lavorare. Ricordo la sindrome di Menieri in particolare, che è una patologia vertiginosa collegata a un aumento della pressione all'interno del liquido che c'è nei canali semicircolari, che sono i tre canali disposti fra loro in piani ortogonali, quindi a 90 gradi uno rispetto all'altro, e sono ripieni questi canali di endolinfa, che è un liquido ricco di sali minerali, e in questo liquido ci sono queste cellule nervose con delle ciglia che si muovono in base agli andamenti del liquido o in base ai movimenti della nostra testa, ai movimenti del corpo. E quindi questo aumento di pressione all'interno del berendolinfa scatena questa stimolazione, questa irritazione delle cellule nervose vestibolari con quindi tutta una serie di sintomi. Il primo può essere anche soltanto all'inizio un ovattamento dell'orecchio o una vera ipoacusia. Poi compare la vertigine, una vertigine oggettiva, con eventualmente tutta una serie di sintomi, che sono quelli che ho detto prima, nausea, vomito, e queste vertigini possono durare a volte anche alcuni minuti. Quindi capite bene che un senso di instabilità, una vertigine soggettiva, dura pochi secondi. Uno o due minuti, se li cronometriamo, due minuti di vertigine oggettiva, chiaramente dà dei grossi problemi. Ecco, la regia fa vedere il sistema dell'equilibrio. Noi l'equilibrio lo manteniamo innanzitutto con lo stimolo visivo, quindi gli occhi, perché ovviamente se voi chiudete gli occhi e camminate in una stanza dove non ci sono mobili, non siete comunque sicurissimi di mantenere un buon equilibrio. Quindi l'occhio permette una misurazione spaziale della nostra stanza, di dove siamo, del luogo dove siamo e dove stiamo camminando, e quindi ci permette di fare le valutazioni, non solo nell'evitare degli oggetti che possono essere presenti sul nostro tragitto, ma anche proprio per rendere l'idea dello spazio che ci circola. Poi dagli stimoli dell'apparato vestibolare, quindi canali semicircolari, quindi le cellule nervose dell'apparato semicircolare, e poi da tutta una serie di recettori di cellule nervose che si trovano nelle articolazioni, nell'articolazione temporomandibolare, ma soprattutto nelle articolazioni cervicali della colonna cervicale, nelle articolazioni della spalla, quindi degli arti superiori e degli arti inferiori. Abbiamo una telefonata intanto, abbiamo una telefonata intanto. Si chiamano proprio accettori e stimolano, mandano l'impulso al cervello in base ai nostri movimenti. Sentiamo chi c'è in linea per il dottore. No, no, non ci immagini. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? Buongiorno. Il mio nome è Mariello Moreno. Da dove? Moreno da dove? Siamo da Roma. Da Roma? Non c'è una cosa. Allora, sì, no, dobbiamo tagliarlo perché questo è uno stalker di trasmissione, chiamiamolo così. È uno che ogni tanto chiama. Non ho capito. No, sono telefonate che riceviamo ogni tanto, lasciamo perdere. Allora, grazie comunque per aver chiamato, ma direi di no. 011 06 00 774 per le vostre telefonate, 348 80 40 254 per i vostri sms o whatsapp. Sì, l'ho anche interrotta io, dottor Capricci, anche se giustamente va quasi finito il discorso legato, in questo caso, all'orientamento. Tra l'altro, prima la regia ci ha proposto anche la differenza tra vertigini vere e false. e questo ci dà l'occasione per distinguere, diciamo, tra vertigini e giramenti di testa, per esempio. Sì, esatto. A esempio, ricordiamo, mentre le cause delle vertigini oggettive, come ho detto prima, sono abbastanza serie e abbastanza anche gravi, in alcuni casi, le vertigini soggettive spesso compaiono anche per case complicazioni saltuarie di, ad esempio, un'indigestione alimentare o un'ubriacatura. Gli ubriachi hanno delle vertigini soggettive perché non si reggono in piedi, tant'è vero che molti pazienti quando hanno una vertigine soggettiva dicono mi sembra di essere ubriaco, mi sembra di non camminare bene, un po' come il paziente di prima che ha detto che è barcolla. Queste sono vertigini soggettive che è sufficiente magari fare bere al paziente un'enorme tazza di tè o acqua, bicarbonato e limone per vomitare e per stare meglio, liberarsi lo stomaco. Una volta liberato lo stomaco e un po' di riposo al letto su una poltrona o su un divano la vertigine scompare e magari se il soggetto non si ubriaca più o non fa più indigestione il problema si risolve. Tra le vertigini soggettive ricordiamo le chinetosi, quindi il mal d'auto, il mal d'aereo, il mal di mare. Queste possono dare assieme a tutta una serie di fenomeni neurovegetativi che poi sono i soliti, quelli legati al sistema nervoso autonomo non correlato alla nostra volontà che sono il pallore, la nausea, il vomito, questi mal di testa, però subentra poi in chi soffre il mal d'auto o il mal d'aereo o il mal di mare che possono avere anche delle forme di vertigini soggettive. Però anche gli stati d'ansia, lo stress, l'insonnia, l'eccesso di nicotina perché la nicotina ricordiamo sempre che è tra le sostanze che causano una notevole vasocostrizione, quindi la nicotina restringe le arterie se il soggetto poi in più ha magari già problemi di artrosi circola meno sangue a livello delle strutture nervose e in particolare a livello delle strutture dell'orecchio, delle cellule nervose dell'orecchio che sono molto molto sensibili alle variazioni di ossigeno, quindi arriva meno sangue, arriva meno ossigeno e le cellule nervose dell'apparato vestibolare possono dare degli stimoli vertiginosi soggettivi come quelle dell'apparato uditivo che possono dare degli stimoli rumorosi all'orecchio, al cervello e sono gli acufeni per rendere il cervello partecipo che c'è qualcosa che non funziona che quindi la circolazione arriva male l'ossigeno arriva male i forti fumatori a volte possono presentare delle vertigini soggettive abbinate ripeto all'artrosi cervicale all'arteriosclerosi a vari fattori allora dovremmo avere una telefonata per il dottore pronto? pronto chi c'è in linea? pronto? buongiorno 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 è quello di prima secondo me questo chiediamo l'UMI alla regia ma dalla voce ci sembrava quello di prima 011-06-00774 per le vostre telefonate 348-80-40-254 per i vostri sms o whatsapp allora le vertigini da cervicale dottor Caprici sono molto frequenti sono molto frequenti come sono frequenti anche le vertigini da patologie dell'articolazione temporomandibolare della mandibola perché comunque il soggetto non si rende conto di masticare magari non tenendo la testa ritta ma di solito tendendo a piegarsi dal lato dove c'è un problema di masticazione e quindi un problema di patologia dell'articolazione temporomandibolare è tutto un collegamento quindi bisogna stare attenti perché le patologie dell'articolazione temporomandibolare oltretutto sono in aumento anche perché spesso la patologia dell'articolazione temporomandibolare è anche collegata a stress nella vita di oggi particolarmente stressante e i soggetti che hanno questi problemi hanno una maggiore contrazione dei muscoli masticatori il massitere e tutti gli altri muscoli masticatori che si accentua ancora di più durante la notte dormendo con il fenomeno del bruxismo che porta al digrignamento dei denti questo porta a un'ulteriore infiammazione dell'articolazione temporomandibolare il soggetto mastica male mastica con delle posizioni sbagliate del collo e tutto questo a lungo andare può portare poi in certi momenti a una stimolazione sbagliata di quei recettori che io ho detto che sono localizzati anche sulla colonna cervicale e che quindi questi propri recettori stimolano in maniera scorretta il cervello e quindi noi avvertiamo la sensazione di vertigine soggettiva di instabilità la stessa vertigine oggettiva che si può manifestare in chi ha disturbi visivi molte persone che hanno disturbi visivi non portano gli occhiali possono avere un mal di testa legato a una messa a fuoco erronea a una contrazione troppo intensa anche dei muscoli oculari oppure possono avere delle vertigini di tipo soggettivo allora dovremmo avere una telefonata per il dottor Capricci pronto? pronto buongiorno sono Liliana da Torino buongiorno buongiorno dottore buongiorno ecco io sono circa tre mesi che ho delle vertigini e non riesco a trovare la causa ho fatto anche l'eco color doppler ai vasi epi aortici e non c'è nulla ho fatto però un forte raffreddore venti giorni fa mi ritrovo mi ritrovo sento del catarro nelle orecchie potrebbe essere quello sì catarro nell'orecchio perché comunque io ho preso ho preso il tuo i mucin 600 per una decina di giorni il raffreddore mi sentivo meglio come catarro però sento comunque sempre del catarro nella gola nell'orecchio ma comunque questo ce l'ho da sempre però questo problema è aumentato perché sento anche del ronzio del pastiglio e non so mi dica l'esce mi dia un consiglio ma indubbiamente il catarro tubarico è un'altra componente che può dare problemi di vertigini come lo possano dare delle otiti le infiammazioni dell'orecchio se sente ancora del catarro io direi di continuare proseguire col fluo in uc e in più aggiungerei anche non so quanta acqua beve ma di bere tanta acqua almeno un litro e mezzo due litri di acqua quotidiana tutti i giorni ci vuole perché come dico sempre l'acqua è il miglior mucolitico che c'è e poi eventualmente decongestionare anche la mucosa nasale perché spesso se la tuba è chiusa è chiusa perché l'orifizio tubarico che è un orifizio di circa due millimetri di diametro tende a chiudersi anche solo per alcune gocce di catarro quindi figuriamoci se la quantità di catarro è notevole e se questo catarro poi è molto denso è colloso e quindi ricorda io dico sempre ricorda l'Alpinavir quella colla che usavo anche da ragazzino e che ha quel colore biancastro ma è molto molto densa e poi se la situazione non migliora anche con dei decongestionanti nasali quindi io non farei solo lavaggi nasali con acqua marina e acido ialluronico ma userei proprio dei farmaci decongestionanti a base di cortisone che può essere il rino fluimucili il sintaris il nasonex il rino viola ce ne sono diversi valutare poi però parlando magari con un ottorino se persiste questo avattamento di fare anche un esame audiometrico e un'impedenzometria se anche persistono ancora delle vertigini di tipo soggettivo come quelle che ha lei lei non vede mai girare la camera gli oggetti? mi sento olveggiare si sente lei però non vede niente cioè è come se fosse in piedi su una barca mi sento barcollare ecco però non vedo girare la camera è la sensazione che può avere se fosse in piedi su una barca sì sì ecco ecco quella è una vertigine soggettiva e quindi indagherei da quel punto di vista lì poi non so ha problemi di artrosi sì 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 certo quindi anche quello incide però io andrei a controllare innanzitutto la funzione tubarica quindi la tuba di ostacchio la tuba di ostacchio che è quella tuba che collega naso e gola con l'orecchio e che dà tutta una serie di disturbi che già compaiono nei bambini piccoli perché la tuba di ostacchio lo dico sempre ecco la regia prontamente ha fatto vedere come è fatta la tuba di ostacchio e che rapporti ha con il naso e la gola la tuba di ostacchio collega la parete posteriore del naso quindi il rino faringe e la gola con l'orecchio e serve soprattutto a compensare le variazioni di pressione nel bambino è praticamente orizzontale nell'adulto è disposta circa con un'inclinazione di 30 gradi dal basso verso il rino faringe all'orecchio quindi verso l'alto questa tuba se si chiude lei non riesce a compensare e poi può dare tutta una serie di disturbi compreso come ho detto la vertigine soggettiva allora per vedere se la tuba è ostruita oltre a fare una visita e lo torino vedrà se c'è del catarro dietro il timpano quindi all'interno dell'orecchio medio si deve fare soprattutto un'impedenzometria un esame oliometrico tonale ma anche un'impedenzometria e poi controllare però anche se ha problemi di artrosi cervicale anche alla colonna cervicale si devo fare i raggi verso il 20 di aprile non ho capito devo fare i raggi alla cervicale verso il 20 di aprile perfetto e allora poi li deve portare al suo medico curante o allo torino perché se c'è un'artrosi è importante anche fare degli esercizi per rinforzare la muscolatura nucale tra l'altro parlando delle vertigini in generale fra le altre terapie io do sempre uno schema di ginastica vestibolare che faccio fare al paziente tutti i giorni per 2, 3 anche 4 mesi possibilmente senza interromperlo mai quasi nessuno riesce ad avere questa continuità perché poi i pazienti mi confessano quando vengono al controllo che quando stanno meglio smettono di fare questa ginastica ma sono esercizi fondamentali esercizi importanti uno li può anche trovare su internet cercando esercizi dell'apparato vestibolare o esercizi di alpike scritto colacca alpiche sono esercizi che mettono e stimolano mettono in funzione tutti i recettori che ci servono per mantenere l'equilibrio si parte da esercizi degli occhi per arrivare ad esercizi del collo della nuca muovendo la testa in certe posizioni esercizi per la spalla e poi esercizi da fare in piedi vanno fatti tutti i giorni perché è importante la continuità poi si possono adottare anche delle terapie mediche ma io spesso ho avuto più risultati positivi con soddisfazione da parte del paziente soprattutto facendo fare molti esercizi molti di noi medici iniziano invece solo a dare terapie mediche ma in realtà spesso soprattutto con la società di adesso con i ritmi che ci sono adesso spesso sono le malposizioni l'assumere posizioni sbagliate in questo non aiuta il lavoro al computer perché molti pazienti soprattutto anche giovani giovani 30-40 anni anche 50 che vengono da me per vertigini spesso indagando hanno magari dei lavori che li impongono di stare seduti per 8 ore davanti a un computer e in alcuni casi con il computer che non è portato in avanti di fronte a loro ma ruotato per cui stanno in queste posizioni col collo girato per ore e ore e ore con sedie che magari non sono a norma della 626 e così via e quindi giorno per giorno il soggetto tende a insaccarsi tende ad assumere malposizioni e quindi è importante anche fare della ginnastica ovviamente anche sulla ginnastica e sul nuoto bisogna fare delle considerazioni perché spesso c'è gente che si spacca in palestra che va avanti con pesi e tutto ma a volte la ginnastica fatta in modo eccessivo e non seguita può essere controproducente anche proprio per il fattore di prevenzione della vertigine io soggetti che hanno avuto problemi alla colonna perché hanno esagerato con i pesi ed è subentrata una vertigine quindi bisogna andare cauti anche con le vertigini e con la ginnastica o con gli esercizi ginnici pesi e così via insomma lo sport fa bene ma attenzione a volte a farlo anche bene che è sempre assolutamente importante crossfit queste ginnastiche esagerate bisogna farle seguiti possibilmente da un fisioterapista o da un allenatore capisco che nelle palestre grosse non è che c'è un allenatore per ogni soggetto che fa palestra però bisogna essere prudenti e ogni tanto farsi controllare 011 06 00774 per le vostre telefonate in diretta 348 80 40 254 per i vostri sms o whatsapp senta dottor Capricci la proverbiale diciamo vertigine da altitudine quella che uno si affaccia di role vertigine quella può essere collegata anche a disturbi visivi cioè già l'altezza può dare sensazioni vertiginose perché uno guardando giù quindi con la vista può impressionarsi e quindi e poi può essere un barotraumatismo anche minimo quindi differenze di pressione e quindi questo in questo caso interviene la tuba quindi se c'è una malcompensazione da parte della tuba di ostacchio quella che abbiamo visto prima il soggetto può avere vertigini come capita a volte durante il decollo o durante l'atterraggio non tanto stando in alta quota sempre più o meno alla stessa quota ma proprio durante le fasi del decollo e dell'atterraggio dell'aereo se ci sono problemi di compensazione il soggetto può avvertire o una fitta di dolore all'orecchio oppure una vertigine dovremmo avere una telefonata per il dottor Capricci pronto? può sentirmi? si buongiorno come si chiama e da dove chiama? buongiorno la sentiamo buongiorno chiamo Davila Falletto e mi chiamo Mafalda Mafalda Davila Falletto buongiorno buongiorno io vorrei sapere se c'è un opuscolo per imparare a fare quelle ginastiche lì che ha detto il professore perché io a dire la verità sono anziana e quei disturbi lì non tanto divertibili ma più di barcollamento che tante volte mi sembra che venga dai piedi le scarpe devo portarle proprio a bassa senza tappi senza niente ben articolate però però più tante volte il movimento dell'occhio e il senso di barcollamento ce l'ho abbastanza forte e ho fatto le analisi del sangue quando sono l'anno scorso a rima gli esami sembrano quasi tutti a posto ho fatto anche l'attac alla cervicale che risulta la 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 ma la mi fa abbastanza bene prendere il serrativ è una cosa forse un po' più forte però io ho sempre paura di prendere tante medicine perché a dire la verità sono sempre stata un po' allergica alle medicine, ma se ti fosse un opuscolo da imparare a fare quelle ginastiche lì che dice lei da qualche parte o comprarlo come ho detto prima lo può trovare su internet cercando manovre di ginastica vestibolare, perché opuscoli in giro non ce ne sono ne abbiamo noi qui alle Molinette in ospedale, però deve venire a fare una visita oppure altrimenti non l'abbiamo nelle edicole non ce ne sono non ci sono a dire la verità ho 94 anni complimenti ha capito cerco di essere autosufficiente più che posso però se ha dei nipoti dei figli qualcuno che sa usare il computer o anche dal cellulare può andare su internet e cercare ginnastica vestibolare esercizi di ginnastica vestibolare vede che anche la regia prontamente ne sta ne sta posizionando e quindi ne scarica uno di questi perché nelle edicole non si trova oppure lo può trovare ma nei libri di medicina di Torino insomma sono libri specialistici che costano anche una cifra e non nel caso grazie allora grazie dunque complimenti per la sua lucidità complimenti complimenti davvero assolutamente io sto facendo una ricerca interessante ma sono arrivato un attimino in ritardo non in po' allora no no perché mi faccia sorridere che questa signora complimenti davvero che ha 94 anni che dunque si porta benissimo l'abbiamo sentito dalla voce è nata probabilmente nell'anno in cui c'è stata l'esecuzione di Bartolomeo Vanzetti che era di Villa Falletto quindi c'è la targa che lo ricorda questo non lo sapevo non lo sapeva dottore il paese di nascita di Bart Vanzetti era proprio Villa Falletto e probabilmente la signora è nata nell'anno in cui ci fu l'esecuzione famosa di Sacco e Vanzetti pronto chi c'è in linea? Sacco e Vanzetti pronto chi c'è in linea? pronto buongiorno come si chiama? da dove chiama? io senta io vorrei parlare con dottor Capricci si mi ascolti deve abbassare a zero l'audio del televisore tolga l'audio del suo televisore completamente benissimo bene lo tolga bene come si chiama? da dove chiama? basta il nome io Renzo si abito a Torino Renzo da Torino prego prego buongiorno vorrei dottor Capricci una situazione che sto vivendo io ho un mese che ho sempre il naso chiudo in modo particolare alla notte è vero che soffro di allergie però quest'anno mi sembra che sia un po' oltre diremo ma quest'anno è peggiorata la situazione a livello nasale soprattutto a livello dei pebinati molto 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 è più di un mese che vado avanti con con tutti i tipi di di cose per il naso però non riesco a risolvere tutti i tipi già non mi piace perché ne devo usare uno quello che si trova meglio senza cambiarne tanti però dicevo dato che ha piovuto poco in questi mesi questo clima eccessivamente secco ha portato ad un aumento della polvere e delle sostanze irritanti prima ancora di arrivare ai pollini che quindi possono dare irritazione nasale che spray lei ha usato fino adesso allora uno il 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 serve per lavare l'altro l'altro base di acqua marina poi ha usato qualche strana l'altro ancora è quello che mi faceva meglio di tutti che me l'ha dato una farmacista rino frumicil ecco rino frumicil è un ottimo prodotto lo consiglio anch'io spesso lo deve usare tre volte al giorno a cicli di 15 giorni al mese quindi usarlo una volta ogni tanto non serve a niente lo usa due tre volte al giorno quindi o mattina e sera oppure mattina poveriggio e sera però per almeno 15 giorni tutti i mesi soggiando dedicatamente a naso 15 giorni frumicil frumicil non è migliorata bene oppure sta aumentando lo scarico di catarro o fa si fa vedere dal medico curante e fa un attack dei seni paranasali per valutare anche se c'è una sinusite oppure si fa prima vedere dallo torino una delle due condizioni la deve fare e poi sarà lo torino o il suo medico curante a valutare anche se fare dei test allergologici perché magari c'è anche un'allergia di fondo grazie grazie dunque dobbiamo chiudere dobbiamo chiudere quindi siamo i saluti grazie ai nostri telespettatori grazie allo torino la ringoiatra dottor Massimo Caprici grazie a voi e buona Pasqua a tutti e a presto naturalmente buona Pasqua a lei buona Pasqua a tutti i telespettatori naturalmente buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti